Una vita vera dopo il palcoscenico ancora non la vedi, no? Volevo capire, intanto se nel frattempo adesso ce l'hai, e se scindi così mancatamente la tua vita privata da dove la puoi l'artista, no? Sì, assolutamente. Da quella che ti hai sul palcoscenico. Assolutamente, ecco, quello era... Credo che il mio essere dottor Genni e mister Haider sia ancora lì. Divido assolutamente le due cose e credo che sia molto importante farlo, proprio per la tua salute specifica. E adesso ce l'hai, una vita vera dopo il palcoscenico? Stiamo, lo sto costruendo. Auguri. Grazie. Ciao Peter. Ciao Max, Varaxar, il fratello di carne, Radio Spazio Blu, Gaeta. Vi passate la battuta, io primo li fa e poi li accoppia. Bravissimi tutti e due. Grazie. Cioè, veramente bravi. E se Peter si incontri ci può accennare, facciamo questo piccolo, un piccolo sample di Cinderella Beautiful che sicuramente avrà cantato Simone.